È il 13 ottobre 2009, siamo a Palidano, Villa Begozzo e abbiamo fatto lo scavetto qui dietro, in questa posizione. Allora la stratigrafia di questo scavo è costituita da un metro di riporto con un po' di asfalto superficiale e poi di sotto limo sabbioso di color grigio di ambiente riducente. Grazie.